E' prima anche l'anteprima del team De Nilkio. Detto questo, voglio ringraziare i De Giaca che oltre a essere ospiti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Detto questo vi lascio agli ospiti che verranno annunciati dalla regia. Buon divertimento! Sono entrati di stramacchio prima Ithiop. L'abbiamo visti ieri con Dylan Dogg e The Pills. Accogliamo Francesco Vitiello di Soma. Simone Laudiero. Non c'è? Eccolo! I due mattia di Sky Pocami! La buon costume di Kubrick! Ithiop. 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 Vai Alfredo! Eeeh! Eeeh! Vai Alfredo! Capito! E' taff. C'è Jacop. E' taff. E' taff. Grazie.